Allora buonasera Gianfranco, lei è stato operato dal dottore Gargano il 4 agosto, un mese e mezzo fa, ci vuole raccontare un po' la sua esperienza? Quali sono i sintomi che aveva prima, quali sono i sintomi che adesso, se c'è stato qualche beneficio, se non c'è stato? Ci racconti la sua esperienza. Un mese e mezzo fa, mi ricordo che quasi quasi era grandissimo, allora adesso già il tempo comunque è migliorato, si è migliorato anche il tempo, perciò nel complesso sono bene. Però da allora ho avuto anche una, mi ricordo che già con il caldo, dopo dell'intervento, dopo due giorni, riuscivo in qualche modo a tollerare un po' di più il caldo. Rispetto agli anni passati intende? Proprio rispetto a come era il precedente evento, quando ho fatto il viaggio a venire verso Napoli. Da dove viene lei? Vengo da un paese sul Pollino, qui c'è di Potenza. E niente, dicevo che i cambiamenti dopo dell'intervento sono stati comunque i più importanti, sono stati immediati. Adesso posso dire questo anche dopo un mese e mezzo di tempo, perciò può avere un quadro, insomma, non completo, però già importante. E i cambiamenti, come dicevo, appunto, sono stati importanti proprio a livello immediato, dove proprio sulla barella per l'intervento avvertivo, prima avvertivo precedentemente, avvertivo dolore sulla gamba destra, principalmente la parte posteriore del ginocchio che non riuscivo a tenere la stesa. Invece mi dava un dolore prima e avvertivo che proprio dopo dell'intervento, come se almeno questo dolore si era sciosto. Ma questo intervento, insomma, facciamo anche un po' di chiarezza sulle modalità. Come si svolge? Insomma, è una cosa dolorosa? Lo dica un po', c'è lo schifo? Ecco, io dico, posso essere uno di quelli che aveva un po' di timore, perché avevo della sopportazione al dolore, che è... Una bassa soglia del dolore? Sì, come arrivava qualcosa in generale mi ero fatto male, perciò ero un po' impressionato da questo, perciò ero... Quanto è durato questo intervento, Gianfranco? È poco meno dolore, mi ricordo poco meno dolore, perciò ho chiesto... Sveglio, vero? Sì, sì, sveglio, sveglio. Avevo chiesto a chi l'aveva fatto prima, insomma, nessuno mi diceva che era doloroso, però mi diceva che in fondo c'erano dei picchi di dolore e questo un po' mi aveva un po' preoccupato. Però, visto che di tutto questo non c'è stato niente, io sinceramente, il dolore, l'unico vero dolore che ho avvertito è quando il dottore mi ha fatto la puntura per l'anestesia. Addirittura? Sì, per me la puntura è proprio il liquido. Questo è stato il vero dolore. E quando hanno introdotto il palloncino? Di questo non mi sono accorto niente, mi sono solo ad un certo punto, dopo forse metà dell'intervento, mentre i dottori vedevano la sfonta, insomma, come si doveva spostare tutto per pilotarla. Ad un certo punto me l'avevano preannunciato che comunque avrei sentito qualcosa, avverti un piccolo dolorino qua sulla vola e della pressione, come se qualcuno mi prevesse sulle spalle. Durò 4-5 secondi, passato di questo, insomma, non ho sentito più niente. Poi c'è durante il percorso della... Era teso durante l'intervento? Com'era l'ambiente in sala operatoria? L'ambiente era rilassato, io no. Io ero un pochettino teso, preoccupato, perché poi lo cos'hai, l'intervento. Comunque anche se era qualcosa che dicevano, come se vai dal dentista, quando anche il dottore Gargano, mi ricordavano che se vai dal dentista ti devi preoccupare di più che se vieni qua. E infatti così è stato. Quindi l'ha messa anche abbastanza a suo agio. Per questo sì, sono tutti molto preparati, riescono a far stare a proprio agio. A me sì, penso che di essere uno che facilmente si preoccupa, mi hanno messo a mio agio. Senti, quindi concludendo, quali sono stati i vantaggi che lei ha ricevuto dall'intervento e quali sono state invece le cose che sono rimaste uguali? Certo il tempo è poco perché è passato un mese e mezzo, però se dovesse fare una stima adesso... Io la prima cosa che penso, perché prima di fare l'intervento, proprio fantasticando nella mia mente, sapendo che comunque qua mi cercavo forse una buona opportunità, forse la più grande effetta che avrei potuto avere come sole di miglioramento. Perché come con questa malattia purtroppo il tempo è sempre un... Più tempo passa e più si avverte che comunque anche io, più tempo passa e più vado peggio. E in questo modo era forse la più grande occasione che avevo di poter migliorare. Il mio problema era nel camminare, volevo migliorare nel camminare, però nel camminare insomma sono migliorato un po', forse non quando avevo sognato. Quanto avrebbe sperato? Proprio quanto avrei sognato. E c'è invece qualche sintomo che è migliorato? Tantissimi sintomi sono migliorati. Dicevo che prima sulla barella ho avvertito dolore alla gamba che mi era scomparso e da allora ho avvertito proprio i dolori alle gambe, proprio a me generalmente, mi sono molto 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 diminuiti. E dall'intervento è rimasto questo beneficio? Questo è rimasto, da allora è rimasto come adesso. Anzi, è una cosa che devo cercare di curare perché secondo me ci sono i presupposti anche per addolcirli un altro po'. Poi come posizione mi ricordo che allora facevo fatica, avevo solo delle posture che mi scombustavano e mi creavano molti problemi. Invece dall'intervento alla prima volta che mi sono alzato ho partito di aver avuto una posizione molto concreta. Io se non ricordo male aveva anche dei problemi di gestione vescicale. Sì, anche quella insomma di andare. Nel tempo ho visto, nei giorni successivi, ho visto che andavo con meno frequenza al bagno, riuscivo a controllarmi e a controllarmi meglio. Quindi ti aspettava qualcosa di più soltanto per quanto riguarda i sintomi della deambulazione. Sì, solo per il camminare. Il camminare. Ho avuto dei piccoli movimenti che comunque prima erano più limitati, adesso sono un po' più ampi. Però nel contesto del camminare mi è difficile collocarli. Però ho avuto anche lì comunque qualche movimento che prima non avevo. Quindi già con il complesso insomma c'è stato un beneficio su di lei? Sì, sì. Ci sono stati dei benefici decisamente importanti. La prima volta ho avuto dei benefici quando faccio questo problema qua. Perché per me è stato sempre un andare peggio. Invece per la prima volta ho fatto qualcosa un po' al contrario per fortuna, andare meglio. Io la ringrazio molto. Arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Grazie.